Mario Balotelli dice che Enoch è intoccabile dopo quanto accaduto lunedì notte all'interno della casa del grande fratello Vic 5 e le sorelle di Enoch Barboa si sono scagliate contro Selvaggia Roma. A distanza di qualche giorno è stato il turno di Mario Balotelli. Tutto è partito dal presunto bacio che l'ex di Lenticchio si sarebbe scambiata con lo sportivo.A quel punto è intervenuto il calciatore sul suo profilo su Twitter per dire la sua. In pratica, Mario ha detto che suo fratello è intoccabile e che chi sparla dovrà prendersi le proprie responsabilità fuori reality show di Canale 5. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto su Noto Social Network. Lo sfogo di Mario Balotelli su Twitter attraverso il suo account Twitter, Mario Balotelli ha sbottato così. Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enoch è intoccabile ripeto, lui è intoccabile. La vita non è al grande fratello Vic quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla casa. In bocca. A lupo a tutti un messaggio che non è piaciuto per nulla al popolo del web che non ha perso tempo a scagliarsi contro il noto calciatore. Anzi, secondo gli internauti lo sportivo dovrebbe ringraziare Selvaggia Roma che solo grazie al suo ingresso ha fatto parlare Noc Barboa. Prima che arrivasse l'influencer se non fosse stato per le sorprese ricevute da Mario, il pubblico nemmeno avrebbe mai conosciuto la voce del geffino. Continua dopo il post. Goof VIP quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Ero che è intoccabile ripeto intoccabile. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla casa. In bocca al lupo a. Tutti di Mario Balotelli, et finali Mario, november 16, 2020 Le sorelle di Enoch Barboa contro Selvaggia Roma Prima dello sfogo al vetriolo di Mario Balotelli su Twitter, erano state le due sorelle a scagliarsi contro Selvaggia Roma. Infatti, in difesa di Enoch Barboa, hanno condiviso delle stories molto forti su Instagram Vedo che qualcuno ha proprio voglia di essere sbranata. Stai proprio giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli mie e vivo nel mio mondo. Però se tocchi i miei fratelli tocchi me. Hai cliccato il bottone sbagliato stavolta. Se pensi di essere il fuoco, allora adesso io ti spengo. Vogliamo basse. Hai sbagliato famiglia stavolta. Quando uscirai dove vuoi, quando vuoi. Sono pronta, hanno fatto sapere le ragazze. Ecco il post in questione. La famiglia di Enoch nei confronti di Selvaggia.gomorra2, 0gvippic.twitter.com.br Zmbgir2 e Lunga Ollet, e Tolletanod, november 16, 2020. Segui Controcultura su Instagram, clicca qui. La famiglia di Enoch.